Ehi, scusi signore, ho una sigaretta? Non ho capito Scusi signore, ho una sigaretta? Scusi signore No Scusi signore Scusi signore Scusi signore Scusi signore Scusi signore Scusi signore All around me are familiar faces Fabio Non ce la faccio No Beh, Rardi, ma non dire cazzate Ma il fatto che uno è 30 anni non vuol dire niente Quello è solo una cosa anagrafica Capito? Cioè, l'età è quello che uno si sente Prendiammi per esempio, no? Io mi sento giovane Sono felice Sono libero Ciccio Ciccio, un talimondizio, eh Ciccio, un talimondizio, eh? Ogni anno Molti quasi trentenni Si accorgono di essere Quasi trentenni Questo può creare improvviso sconforto Disorientamento Attacchi di panico Depressione Fino a sfociare in atti estremi Come interminabili telefonate Alla mamma Per evitare tutto questo Per aiutarli Per alleviare questo passaggio Ricorda Di dare del tu Semplicemente del tu E che cazzo No, Fabio No Io la faccio finita